... Discutendo così in questi giorni, soprattutto quando abbiamo pensato di preparare questa conferenza stampa, riflettendoci su, forse ci siamo resi conto che stiamo facendo qualcosa di completamente innovativo come opportunità per il territorio. Che cosa sta accadendo? Sta accadendo che da quest'anno, cioè già da questi giorni, le latte che arriveranno quindi sui mercati nazionali e internazionali presentano un percorso, una cosa diciamo abbastanza ormai innovativa ma ormai presente in molti prodotti di aziende nazionali e internazionali. Però abbiamo pensato invece di collegarla a qualcosa di informazione specifica dell'azienda di aprire un po' il raggio di azione e di unirlo ad un'altra iniziativa di marketing del territorio. Quindi abbiamo due fronti informativi. Il primo, con il QR code, si scaricherà l'app di Rosso Vergano che avrà quattro segmenti, li vedremo dopo con Enzo Dutta della rete del Mediterraneo che ha contribuito effettivamente alla realizzazione di quest'app. Ma la cosa più importante è che l'azienda Rosso Vergano, dal 5 di ottobre, che è il primo evento internazionale importante in Germania e alla Luga, porterà materiale informativo del territorio, uno di questi messi a disposizione dal parco, dove c'è la descrizione sia in lingua italiana che in inglese di quelli che sono i centri del territorio verganico e quindi con la descrizione, le opportunità di fare escursione e altro. E l'invito che noi facciamo oggi è quello appunto di dire agli altri enti, dalle comunità mondane, dai singoli comuni, se avete il materiale promozionale nel vostro comune e nel vostro territorio, consegnateci, perché noi saremmo ben vieti di portarvi un giro per il mondo, oggi in Germania, domani magari in Giappone, negli Stati Uniti o in altri paesi del mondo, dove insieme al macchio Rosso Vergano ci sarà il territorio. Quindi molti o pochi, adesso non lo so, che non conoscono il Gargano capiranno che non si tratta di Gargano, magari Gargano è il nome della famiglia rappresentativa dell'azienda, ma è rappresentativa di un territorio. Quindi come punto di partenza sono veramente molto contento che abbia accolto l'invito di dare un messaggio il Vice Presidente di Rosso Vergano, Giuseppe Sarò, a cui c'è loro parola, per far comprendere come è anche stibilizzato nei minuti precedenti, nelle varie interviste, veramente qual è lo spirito dell'iniziativa. Grazie. Buongiorno, grazie a tutti. Sono Giuseppe Sarò, Vice Presidente di Rosso Vergano. Come detto, voglio ringraziare il Parco Nazionale del Gargano, il Dottor Pazienza, che ci ha permesso di realizzare questa giornata e realizzare questo cammino che ci auguriamo, tutti quanti abbiamo fatto una elaborazione di Parisi, di Stato, di Stato, di Stato, di Stato, di Stato, di Stato. Stesse soltanto all'inizio e non alla fine c'era un racconto che ci stanno facendo questo stamattina e che domani mattina, nel mese prossimo, non si conosca. I ringraziamenti, vi devo permettere, due minuti, il Parco Nazionale del Gargano, provincia, quattro famiglie di Mediore Cane che hanno voluto e hanno sostenuto questa realtà. Noi ci troviamo qui oggi, io dico anche per fortuna, questo è un qualche partito da questo momento, quattro famiglie, la famiglia di Domenico De Mario, la famiglia di Nazareno di Feriglio, la famiglia di Ingenio di Mattio e la famiglia di Rigoli Inzalato, quattro famiglie di imprenditori agricoli, nascono nel terreno coltivando i prodotti autofruttivi della nostra provincia e del nostro territorio. Si evoluziono per un'azienda, una società, trasformano i loro prodotti, il pomodoro, significato della propria terra, significato della propria famiglia, significato di ciò che siamo, da dove veniamo e dove vorremmo andare. Il nostro slogan, noi lo coltiviamo, noi lo trasformiamo, nasce da questo, da questa volontà. Il nostro slogan da sempre, Rosso Gargano, non era uno slogan ma era una volontà ben precisa e dalla volontà di riconoscere un lavoro, delle persone, un territorio specifico. Ci auguriamo che da qui al prossimo di venire questo sia fatto in maniera sempre più perfetta e sempre meglio posizionato. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie, grazie. Io per cedere la parola e il microfono al Presidente del Parco Nazionale di Gargano, Pasquale Pazienza, mi associo ai ringraziamenti ma non c'è stato bisogno di molto, è vero Pasquale? Quando mi hai detto guarda c'è questa idea che mi dici. Beh, oggi Pasquale che ho vissuto anche l'ente provincia qualche anno fa, diciamo, quando ancora la provincia aveva un ruolo importante, ma come la provincia, così all'epoca c'erano le aziende di proposto, l'APT, c'erano anche maggiori risorse. Oggi le risorse economiche negli enti scarseggiano, soprattutto per fare questo tipo di attività. Quindi diventa a volte anche fondamentale che si crei questo racconto. Io forse posso parlare senza microfono, esigenze, ok. Mi credo di avere un libro locale sufficiente per raggiungere le vostre macchine. Buongiorno a tutti, grazie, 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 grazie per aver solleticato una riflessione che è quella appunto di vedere due realtà che vivono, esistono nel territorio, ovvero una realtà privata, appunto l'azienda Rosso Bergamo, una delle principali aziende del nostro territorio, appunto vedere la sposata, chiamiamola, diciamola così, con un ente territoriale, ovvero quello dell'ente Parco Nazionale del Gargano, per un semplice concetto, perché nel nome portiamo tutte e due, ogni due, l'etichetta di un territorio, appunto il Gargano. Mi permetto anche di aggiungere, c'è stata la base anche un'altra riflessione, quanto di Gargano c'è nel Rosso Gargano? Questa è stata una delle mie prime domande, che ha trovato un'altra risposta quando mi è stato spiegato che una buona quota, una significativa quota del Comodorino, praticamente poi viene dalle zone del Cagnano, Desina e quindi dalla parte del Nord Gargano. Quindi c'è un prodotto che è il frutto di un territorio. E rifacendomi adesso non per voler praticare il rezzo del docente universitario, anche perché non sono docente di marketing, però la PC del marketing ci insegna che quando un'azienda promuove un prodotto e lo fa raccontando il territorio in cui quel prodotto stesso viene, ed è il risultato commerciale, il risultato di mercato lo si riesce a recuperare molto più facilmente in termini di probabilità di vendita. Questo chiaramente al netto della qualità che è un dato scontato. E allora è proprio questo connubio di interessi, ecco perché prima parlavo di matrimonio, un connubio di interessi, ovvero l'interesse di una parte privata che chiaramente, scuso per il ritorno sulle parole, ha l'interesse a coltivare i mercati andando oltre il locale, quindi mercati nazionali e mercati esteri e lo vuole fare, propone di farlo in quella logica di promuovere il prodotto raccontando un territorio. Ed ecco qui in questa seconda battuta c'è l'interesse del pubblico, un pubblico che a questo punto accompagnando l'operatore privato e facendosi accompagnare dall'operatore privato aggancia i mercati nazionali, ancora di più quelli esteri, realizzando evidentemente anche delle economie di spesa. Gli inglesi di fronte a queste cose parlano di win-win situation, cioè una situazione in cui tutti vincono e nessuno perde. E allora in questa logica di partenerato pubblico privato o informale credo che ci sia una proposta di best practices che non può sfuggire all'attenzione anche di atto per i politici privati. Ma è chiaro, dal mio punto di vista, poco prima mi era stata fatta una domanda, quale sarà l'atteggiamento del parco? L'atteggiamento del parco sarà che l'ente parco sarà aperto e sarà disponibile a chi si comporta bene nel parco. Adesso generalizzando questo principio, intanto l'apertura di una porta istituzionale, di una porta di ente pubblico è stata fatta perché siamo consapevoli dell'impegno che l'azienda Rosso Gargano pone anche su aspetti etici. Credo che non sia distante, credo, nei tempi la produzione di un rapporto di responsabilità sociale di impresa. Sono esattamente questi i passaggi, i punti fondamentali per fare impresa nel territorio. Se tutta la base produttiva, a questo punto vi richiamo anche agli sforzi che leggo, in cui sono consapevole anche, vengono fatti all'interno della situazione industriale, con la carta etica e quant'altro, se il nostro territorio riuscirà a virare verso queste forme di produzione, verso queste impostazioni aziendali, io sono convinto che non faremo troppo tardi ad affermare una nuova economia nel nostro territorio, che mi permetto di dire, tornando a praticare il prezzo del docente, un'economia civile. Grazie. Grazie a vostra presenza, io ricevo il microfono ad Enzo Donta, che è il Presidente della Vede del Mediterraneo, che ha preso attivamente alla realizzazione, anche il progetto, ha, diciamo, più speso a questo concetto. Io ripetesco, al di là dei comuni che possono, o gli enti interessati a partecipare a questo lancio nel territorio, veramente saremmo molto ben viedi, ma anche orgogliosi, se altre aziende nel territorio adottassero questo sistema. Immaginate se, al di là di lo suo vocale, qualcuno sicuramente lo farà, magari non lo sappiamo, è una piccola azienda, ma non lo ha detto. Però immaginate se a cascata anche altre aziende rappresentative cominciano a portare materiale informativo turistico. Credo che ci accorgeremmo di qualcosa, anche che magari fra un anno o due anni, ma qualcuno dirà che sì, conosco il Gargano, conosco magari il paese più piccolo perché ha letto una brochure, ha letto un estate informativo. Enzo, volete, diciamo, che riusciasse a questo discorso anche per far vedere come funziona? Assolutamente sì, intanto vi ringrazio davvero il cuore di questa opportunità. La prima cosa che voglio dirvi è questa. Oggi state assistendo a un miracolo. Perché un miracolo? Perché per la prima volta è vero che ci sono già altre aziende, come Borgo e Turbito, Reviers, che hanno cominciato a sposare l'idea di unire il territorio prodotto. Quindi che cosa ha del territorio? Principalmente la cultura che viene rappresentata di quel territorio e le esperienze turistiche che vi sono sopra. Ma quello che è accaduto con il nostro Gargano è qualcosa che non è mai successo negli ultimi anni. Perché questa operazione è stata chiusa in esattamente circa 4-5 mesi, credo, da quando abbiamo cominciato a parlare. Il che significa che di fronte ci siamo trovati, come contratto direte, ad un'azienda che davvero è l'ingegnerante e quindi ha compreso il valore di quello che si stava facendo. E qual è il valore? Il valore è il fatto che un prodotto diventa portatore di interesse dello stesso territorio. Ed è questo in dato, per scherzo con Andrea, che io ringrazio, Andrea Di Maio, perché ci siamo incontrati per caso ad una riunione. Lui mi ha presentato subito il team dell'azienda e questo è avvenuto veramente in tutti i mesi. La cosa importante è capire che questo è un percorso in crescita, avrà sicuramente una serie di cambiamenti in tutto quello che mi ha fatto, cioè perché ogni cosa che facciamo ha sicuramente delle innovazioni, però la cosa importante è che risponda anche il territorio, perché di dove il nostro Gargano riesce a portare sulle tavole milioni e milioni di barattoli, dall'altro canto non devono essere finiti come territorio a capire qual è l'importanza di ciò che sta facendo un'azienda come questa e quindi permettere a questa certa forma di poter funzionare. La certa forma è molto semplice, la vediamo qui, è fatta a una struttura veramente molto semplice, quindi sono solo le quattro sezioni. Queste quattro sezioni riguardano le ricette, i video, sono per te e vini in Buglia. Ovviamente abbiamo cercato di dare importanza alla regione Buglia, anche se pure una volta che si clicca sopra ci sono tutte le esperienze di questa provincia, però in realtà abbiamo cercato di sfruttare ovviamente il brand di Buglia. Le ricette sono ricette che vengono caricate innettamente dall'azienda e quindi il consumatore avrà sempre nuove informazioni rispetto a come preparare i prodotti realizzati da Rosso Verbiata. In più abbiamo inserito la possibilità di fare inserire direttamente al consumatore finale ricette proprie. Qui invece abbiamo agganciato l'applicazione all'elenco dei video. Sull'elenco dei video non solo saranno presenti i video dell'azienda, ma saranno presenti anche i video del parco delle ricette reale, i video di tutto ciò che riguarda il territorio di Foggia e Comincia, quindi saranno i video che probabilmente saranno prodotti anche da persone esterne all'azienda o anche in proprio direi, ma che comunque servano a valorizzare il nostro territorio. La parte invece interessante che abbiamo voluto inserire per i consumatori è un mondo di vantaggi. L'icona solo per te sta ad indicare al consumatore la possibilità di trovare o degli sconti o qualsiasi altra cosa che può in qualche modo permettere a Rosso Verbiata di vendere il prodotto direttamente sull'e-commerce. Quindi io non solo ti do delle opportunità di vedere quello che facciamo, come lo facciamo e dove lo facciamo, ma se vuoi, puoi usufruire di sconti o una serie di vantaggi e comprare direttamente dal portale. La co-branding con uno dei macchi che utilizza la Regione Puglia ormai da vent'anni, che è Gargano Italia, viene realizzata sempre con l'obiettivo di dire al consumatore quello che può vivere all'interno del territorio. Quindi che cosa significa? Significa che su questa sezione il consumatore potrà vedere gli eventi di questo territorio che vengono caricati direttamente dalle singole paese, dalle singole organizzazioni o addirittura le esperienze turistiche che vengono messe a disposizione sempre da guide turistiche o da chiunque faccia turismo attivo. Diciamo che questa alleanza, se vogliamo, tra due aziende private, perché comunque alla fine c'è un intervento anche continuo nel territorio rispetto a tutto quello che abbiamo fatto, è un ente pubblico e come diceva prima il Presidente, è sicuramente una forma di partenariato pubblico privato informale, ma che comunque vuole mettere a disposizione del consumatore del prodotto del territorio con la realtà che diversamente non arriverebbe sul territorio. Grazie. Grazie a Denizzo Dota, il Presidente della Repubblica, io cedo il microfono al Presidente della Provincia. Nicola Caglia, ovviamente intanto un grazie per aver ospitato questo momento, di aver fatto visita all'azienda nei giorni scorsi, anche perché le cose non si fanno così, si capiscono, si approfondiscono e credo che la Provincia di Coggia, secondo me, a ruota seguire il Parco Nazionale di Gargano nella sua, diciamo, idea di esportazione del territorio. Sì, grazie, buongiorno a tutti, saluto il Presidente della Repubblica, saluto la proprietà di Rosso Gargano. È veramente un giorno bellissimo per la Capitanata. Vi ho avuto il piacere qualche settimana fa visitare lo stabilimento di Rosso Gargano, un'azienda libera del mio settore dell'agroindustria. Posso dire che sono poche le aziende che hanno, diciamo, uno spirito innovativo e questa, diciamo, è la dimostrazione plastica di quella che è la realtà di Rosso Gargano, questa iniziativa di promozioni, di marketing, non solo delle produzioni, ma un progetto di marketing territoriale, quindi si vuole esportare non solo le eccellenze del nostro territorio, ma si vuole esportare un territorio, quindi il Gargano. Quindi sono davvero contento di questa iniziativa che è un'iniziativa, secondo me, straordinaria, perché forse è la prima volta che un'azienda, un'azienda privata, chiama la parte pubblica, quindi due mondi, due settori, due realtà che spesso non si incontrano, a volte con noi la parte pubblica dimentica la parte privata, cosa che è molto grave, senza, diciamo, avere quella giusta forse consapevolezza che le aziende private, le imprese, sono più o meno un motore di uno sviluppo del territorio. E questo Pasquale compete a noi, diciamo, cercare di, come abbiamo fatto bene oggi, insieme di fare sistemi, di fare rete. In questi mesi, tu che conosci bene questo evento, forse, l'assessore, in una realtà, in un momento diverso, lo vedo e l'ho constatato in questi mesi, che alcuni progetti che Pasquale Pazienza, l'assessore, aveva messo in atto, oggi hanno ancora, diciamo, una ricaduità positiva per questo evento. Quindi dobbiamo continuare a lavorare insieme, dobbiamo stare vicino alle imprese. Quando ho visitato l'azienda dell'azienda, ho visto che ha bisogno di una vicinanza istituzionale per capire le difficoltà e i problemi. Ho appreso quel giorno di quella problematica riguardante la risorsa idrica. E siccome è di grande attualità il tema anche dell'Asi, che da qui, spero a breve, possa avere una nuova governance, sarà uno dei temi che dovremo, diciamo, affrontare da subito. Perché è impossibile pensare che un'azienda debba pagare la risorsa idrica tre volte di più rispetto ad altre aziende in gli altri territori. Questo, purtroppo, non agevola l'azienda, nell'azienda di difficoltà da essere competitiva sui mercati. Quindi è un qualcosa che dovremmo affrontare con due terminazioni e affrontarlo, diciamo, insieme. Io sono felicissimo. Noi abbiamo, questa è la dimostrazione, un territorio stupendo. Abbiamo un mare, terra, laghi. È un territorio che va messo a sistema, è un territorio che comunque ha delle grossissime potenzialità. Come dicevi, in questi mesi sono stato attore principale. Forse è anche una fortunata coincidenza di avere il Presidente del Consiglio di Ministri di questa terra, però la provincia è ritornata a giocare un ruolo importante. Siamo stati promotori di un contratto istituzionale di sviluppo che ha portato per la terra di Capitanale 280 milioni, di cui 120 milioni per l'ente provincia e soprattutto per la via via. Perché le imprese hanno bisogno di infrastrutture e sicuramente il porto, gli aeroporti, ma prima di tutto le aziende hanno bisogno di una viabilità quella ordinaria. Quindi queste misure serviranno sicuramente a validare questo problema perché da anni che in provincia di Foggia non si mette mano alla mantenzione delle strade, quindi può dare quelle giuste risposte al territorio. Quindi, che dire? Ancora grazie. Grazie al Presidente della provincia. Io adesso cedo la parola a Giuseppe Stassi che è responsabile commerciale della nostra azienda e che trasformerà in numeri tre parole che sono state dette prima al tavolo usando miracolo, mezzo d'oro, urgo, pasquale pazienza, straordinario del Presidente della provincia. Se l'avesse detto magari Giuseppe sarebbe stato scontato, ovviamente parlo del suo prodotto. In realtà perché un miracolo straordinario e unico questa opportunità? Perché ovviamente, adesso ci darei anche Giuseppe, se un messaggio arriva nelle case di dieci persone è un piccolo messaggio. Se arriva nelle case di milioni di persone a costo zero, penso che si avrebbe un miracolo. Sì. Buongiorno a tutti. Il miracolo, forse il vero miracolo è quello che è stato fatto nell'ambito della costituzione dell'azienda, cioè delle persone, imprenditori agricoli che sapevano fare bene una cosa, molto bene una cosa e hanno deciso di continuare il loro processo, non soltanto coltivando il prodotto ma trasformandolo e quindi dando poi un occhio a quello che era il processo nell'ambito della qualità. perché è un'azienda che oggi si attesta a livello mondiale, noi esportiamo, sono contentissimo di poter dire noi esportiamo in 51 paesi nel mondo. Quindi sono numeri abbastanza importanti, considerate che abbiamo degli importatori diretti in Giappone, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Australia, oltre naturalmente poi a portare tutto il prodotto nel resto del mondo. Nella campagna dell'anno scorso sono stati trasformati più di 200 mila quintali in materia rima che hanno dato vita quasi a 57 milioni di latte. quindi quello che diceva tutto Roberto, 57 milioni di latte significa che 57 milioni di persone nel mondo hanno la possibilità di guardare, di osservare il nostro territorio, perché oggi questo QR code ci permetterà con un semplice click di vedere video del Gargano, di vedere il nostro territorio e di capire da dove questo pomodoro effettivamente arriva, dove è stato coltivato e dove è stato trasformato. Quindi se questo fosse considerato un pirato sicuramente siamo su una strada che è quella giusta, perché penso che i numeri di quest'anno vengano ancora di più rinforzati, perché oggi il marchio è stato costruito in una maniera corretta ed è grazie a questa costruzione fatta negli anni passati che si riuscirà ad edificare ancora qualcosa di più solido e duro e duro. Grazie.